Musica Zess appello di Bonomi, non penalizzare il Sud. Il confronto promosso dai giovani di Confindustria Capri, il leader degli industriali, chiede di non snaturare lo strumento di estensione per chi investe. Intanto per i campi flegrei si punta al sisma bonus per i privati. Sbarco di migranti al porto di Napoli. Nel pomeriggio è previsto l'arrivo di Aitamari, con a bordo 69 persone, tra loro anche donne e bambini. Vertice in prefettura per coordinare l'accoglienza, le persone saranno ospitate all'ospedale del mare. Sale la tensione per la ripresa del conflitto israelo-palestinese. Ieri 500 in piazza, diviso il mondo arabo. Liman, partenopeo, condanna Mas. Stamattina appello per la pace con De Magistris e padre Zanotelli. Festa PD a Benevento, è il giorno di De Luca. Proseguono gli incontri della festa dell'unità nel Sannio. Nel pomeriggio alle 18.45 è l'appuntamento più atteso con il governatore della Campania, intervistato dal direttore Pierluigi Merillo. L'evento in diretta su Otto Cian. Gestione, rifiuti, tensione in Irpinia. Ad Avellino fa ancora discutere la scelta del comune di gestire il servizio improprio. I sindacati contestano la decisione del sindaco Festa e chiedono che i lavoratori restino alle dipendenze del pubblico. Lunedì, nuovo presidio. Due mesi di luci d'artista Salerno punta al boom. In città proseguono le attività di montaggio delle installazioni luminose. Accensione il prossimo 24 novembre. Quest'anno l'evento durerà meno, ma l'obiettivo è portare in città migliaia di visitatori. Buongiorno, ben ritrovati con la nostra informazione. Campi Flegrei, i sindaci approvano il piano del governo per il contrasto al bradisismo, ma la priorità è trovare le risorse per garantire la sicurezza degli edifici privati. Vediamo. Dopo il vertice a Pozzuoli con i ministri Musumeci e San Giuliano ed i sindaci del territorio, si prova ad accelerare per l'attuazione del piano per i campi Flegrei. L'obiettivo è dare risposte in tempi rapidi dal momento che il bradisismo non dà tregua e la popolazione è preoccupata. Stanziati 52 milioni di euro, il governo ha accolto le richieste dei sindaci del territorio. La priorità è la messa in sicurezza degli edifici. Su quelli pubblici le verifiche sono già partite e il monitoraggio è costante. Le criticità riguardano soprattutto i privati, per i quali i sindaci hanno chiesto agevolazioni al governo. In questa zona sono state definite delle azioni da fare, quindi una valutazione della vulnerabilità degli edifici pubblici, cosa che noi già stiamo facendo come comuni. Il grande tema è la valutazione della vulnerabilità degli edifici privati, che richiede una valutazione speditiva che va definita, perché è un tema che non è stato mai affrontato a questi livelli in maniera estesa, dal punto di vista anche tecnico-scientifico e che poi c'è un altro tema. Dopo che abbiamo visto qual è la vulnerabilità, che cosa si fa, quindi la proposta che noi facciamo, che ne abbiamo fatto anche al Ministro, che ci sia, lui si utilizzi lo strumento del sisma bonus per poter consentire poi ai cittadini che eventualmente avranno edifici che si considereranno vulnerabili di poter intervenire. Ed ora parliamo del nuovo sbarco dei migranti in Campania. È in programma nel pomeriggio l'arrivo al porto di Napoli della nave ONG Aitamari, con a bordo 69 persone, tra loro 57 uomini, 6 donne e altrettanti minori, per la maggior parte originari del Bangladesh, Siria ed Egitto. Già predisposta la macchina dell'accoglienza dopo il vertice operativo in prefettura a Napoli. In campo la task force con forze dell'ordine, associazioni, ASL e forze di polizia. La prima assistenza ai naufraghi, i soccorsi nel Mediterraneo, sarà allestita presso il residence dell'ospedale del mare. E a Napoli ieri in 500 sono scesi in piazza per chiedere la fine del conflitto palestinese tra Israele, ma il mondo arabo invece si è diviso. Vediamo. Oltre 500 persone ieri sera sono scese in piazza a Napoli per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente, ma la manifestazione organizzata da comunità palestinese, cittadini e sigle della sinistra, ha finito per spaccare il mondo arabo. Non è sceso in piazza infatti l'imam Massimo Cozzolino, perché ha spiegato per noi a massa e come l'ISIS, ma la marcia non è stata l'unico appuntamento. Samane in piazza Bellini si è tenuta un'iniziativa per la pace con l'ex sindaco Luigi De Magistris e padre Alex Zanotelli. Se non si pone fine all'apartheid, all'occupazione delle terre palestinesi, non si dà dignità a un popolo, non ci sarà mai pace e sicurezza né per i palestinesi né per gli israeliani. Quindi c'è una responsabilità molto forte dei governi forti del mondo, soprattutto i governi occidentali, che non hanno voluto affrontare in maniera efficace questo tema. Quindi adesso la situazione è totalmente fuori controllo. L'obiettivo è creare un moto nell'opinione pubblica che magari possa confluire anche in una manifestazione nazionale per la fine della guerra. Il commento è collegato a quanto sta accadendo in questi minuti, in queste ore nella striscia di Gaza, dove un popolo di due milioni e oltre di persone, prevalentemente bambini, è sotto attacco da un bombardamento terribile. Quindi queste iniziative si propongono in primo luogo di fermare la guerra. È morta in una clinica di Ottaviano, dove era ricoverata da alcuni giorni. Rosetta Cutolo, la sorella del super boss Raffaele, fondatore della nuova camorra riformata, protagonista della faida che insanguinò Napoli negli anni Ottanta. Aveva 86 anni, secondo gli inquirenti, Rosetta aveva tenuto le redini del sud alizio criminale per un lungo periodo di tempo. I funerali si terranno domenica alle 10.30 nella chiesa di San Michele ad Ottaviano, suo paese natale che non ha mai voluto lasciare. E nonostante l'estate sia terminata da settimane a Salerno complice il bel tempo, ci sono ancora tantissimi turisti italiani e stranieri agli imbarchi dei traghetti per la costiera amalfitana. Vediamo il servizio. Nonostante l'estate sia ormai finita, sono ancora tantissime le persone che affollano gli imbarchi per la costiera amalfitana, tanti turisti stranieri, ma anche gli italiani che hanno scelto di godere di queste ultime giornate di sole. La settimana prossima sono previste le piogge, quindi approfittiamo di andare adesso. Da più tranquilli c'è meno caldo, meno caos, meno confusione. Abbiamo approfittato l'ultimo giorno di estate, grazie a Dio. Una giornata così bella, siamo ancora in estate, noi siamo di Cervia. E dove andate? Noi andiamo a Positano. Godiamoci almeno oggi questa giornata magnifica, poi speriamo che continui ancora un po'. Il tempo è ancora ottimo per girare la costiera amalfitana, sì. Voi da dove venite? Dalla provincia di Milano. Il tempo è bello, veramente bello, ci stiamo divertendo. La costiera? Bella, bella, molto bella. Mi piace molto, mi incanta, felice. Noi felice. È hermoso tutto. Direi molto molto bella. Stiamo divertendo, il tempo è dalla nostra parte, quindi è il top. Le temperature sono ancora alte, fino a quando si andrà avanti con i traghetti? Allora, non andiamo avanti fino a 5 novembre. Poi si sta valutando un pochettino se continuare o no. Fino a 5 novembre è ufficiale. Un'estate comunque è andata benissimo. Ottima, sì, ottima. Ci sono parecchi turisti, parecchi, parecchi turisti. È fissato per questo pomeriggio alle 18.45 l'appuntamento più atteso della festa dell'unità Benevento. Sul palco di Piazza Roma il presidente De Luca per la Kermess del Partito Democratico sarà intervistato dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo e l'evento sarà trasmesso in diretta TV. È l'appuntamento più atteso della festa dell'unità di Benevento questa sera alle 18.45 sul palco di Piazza Roma protagonista il governatore Vincenzo De Luca che sarà intervistato dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo. Un evento trasmesso in diretta da Otto Channel. La festa del Partito Democratico però prenderà il via alle 17 con il dibattito sul tema i diritti generano diritti, carcere e legalità. A cui prenderà parte anche il garante campano delle persone private e della libertà personale, Samuele Ciambriello. Entra nel vivo dunque la Kermess che come annunciato dal segretario Cacciano si propone di incuriosire ed avvicinare. Certamente il Partito Democratico celebrando questa festa al centro della città dopo decenni vuole rimarcare il suo essere al centro di un progetto di alternativa per la città, per il territorio. Una centralità che è una centralità declinata con la massima apertura e la massimo spirito di dialogo nei confronti di tutte le forze politiche, partitiche, civiche del vasto campo del centro-sinistra, campo a cui noi ci vogliamo rivolgere. Una tra i giorni che evidenzia la nuova strada intrapresa dal Partito Democratico. È un voler riportare la più nota festa popolare dei partiti al centro della città e al centro del Sannio come momento di ripartenza e anche di conferma del lavoro di apertura e di inclusione che questa classe dirigente nell'ultimo anno ha già messo in campo. Tensione in Irpinia sui rifiuti, i sindacati contestano la scelta di Avellino di fuoriuscire da Irpinia Ambiente. La gestione resti pubblica e i lavoratori non devono essere assunti da un privato. Sentiamo. L'avvertenza sui rifiuti che si sta trascinando da oltre un anno in Irpinia diventa sempre più complessa e i sindacati ribadiscono con forza che l'unico obiettivo da perseguire è quello di mantenere l'integrità territoriale senza la fuoriuscita di nessun comune e la gestione pubblica. Abbiamo sempre sostenuto che frammentare il servizio fosse una cosa non positiva per l'intero sistema, anche per il contenimento dei costi e per la tutela dei lavoratori e dei cittadini. Ora che si sta avvicinando il momento i lavoratori e i sindacati sono contrari al 100% a questa scelta. Inizialmente fu detta che i lavoratori passavano con la società mista grande, poi ci siamo trovati che è devizia direttamente ad assumere i lavoratori e questo non va assolutamente bene sia per i lavoratori, nulla contro devizia, nulla contro il privato, ma i patti erano altri. In questo quadro di grande confusione i sindacati dopo l'assemblea con i lavoratori hanno programmato la mobilitazione dei dipendenti di Irpinia Ambiente a partire dalla giornata di lunedì 16 ottobre e alle 10 effettueranno un presidio davanti al comune di Avellino. Con la fuoriuscita di Avellino poi c'è anche la questione degli altri 113 comuni del versante Ato, altri 500 lavoratori possono affrontare la stessa problematica, quindi noi chiediamo con forza alla politica, a tutte le istituzioni che si prendono le proprie responsabilità e capiscono il vero problema dove noi abbiamo fatto tanto nel 2010 per integrare un servizio e rendere univoco. Salerno punta al boom per Lucida Artista, accensione del 24 novembre per un evento che durerà meno del solito ma con l'obiettivo di catalizzare l'attenzione di migliaia di visitatori. Salerno si prepara ad accogliere la nuova edizione di Lucida Artista, sarà la diciottesima e i tanti visitatori che arriveranno in città. Taglio del nastro previsto per il prossimo 24 novembre. L'evento terminerà il 21 gennaio. Proseguono gli allestimenti nelle varie zone della città, una kermesse completamente rinnovata, le installazioni luminose sono affidate allo studio torinese On Design. La villa comunale sarà trasformata in uno zoo illuminato ricco di animali di ogni tipo, mentre il Corso Vittorio Emanuele sarà un cielo stellato, con pianeti di tutte le dimensioni. A Piazza Flavio Gioia arriveranno invece meduse e vegetazione. Si ci aspetta grandi numeri, soddisfatti gli operatori turistici. C'è un grandissimo interesse tra gli operatori nazionali per Lucida Artista, ormai è un evento iconico che è atteso in tutta Italia. Allo stand del Comune di Salerno a TTG abbiamo avuto tantissime richieste di agenzie di viaggi che sono rimaste particolarmente soddisfatte del fatto che le luci si accendano il 24 novembre e rimangano attive fino al 21 di gennaio. Il presidente Ilardi ha rivolto anche un appello ai salernitani chiedendo la loro collaborazione per il successo della kermesse. Vorrei dirlo a tutti i nostri concittadini. È un evento tradizionale, è un evento che caratterizza la città, che apporta benefici non solo nel periodo in cui si tiene ma anche in termini pubblicitari tutto l'anno. Quindi accogliamolo con grande favore e con grande piacere. Napoli e il Sannio, protagonisti del Giro d'Italia 2024, presentato ieri pomeriggio a Trento, protagonisti Napoli e le due località sannite. Sud rappresentato da Napoli e dal Sannio al Giro d'Italia 2024, presentato ieri nel corso del Festival dello Sport organizzato da RCS. Si parte da Venaria Reale il 4 maggio per arrivare in Campania sul lungomare di Napoli domenica 12 maggio. Già lo scorso anno il sindaco Manfredi aveva annunciato di aver raggiunto l'accordo con RCS per fare la terza tappa consecutiva a Napoli. Visto il precedente successo di pubblico, una cartolina mondiale per la manifestazione sportiva per eccellenza. A seguire lunedì 13, giorno di riposo e martedì partenza da Pompei per giungere nel Sannio a Bocca della Silva, frazione montana di Cusano Mutri. Mercoledì 15 a tornare, dopo decenni nella storia della corsa sarà invece Foiano di Valfortore con la tappa, che giungerà dopo 203 chilometri poi a Francavilla a mare in provincia di Chieti. Occasione unica di promozione sportiva e turistica per i centri del Sannio, in particolare per il Fortone, zona interna per eccellenza. Questa notizia comunque ha reso giustizia un lavoro che è stato fatto in questi anni e che quindi oggi porta un'opera di estrema visibilità per questa valle, che dovrà prepararsi a un evento importante, dovrà presentarsi come un'area diciamo così marginale interna ma anche incontaminata. Quindi avremo la grande possibilità di mostrarci al mondo. Due giorni di prevenzione oncologica a Mercoliano, la tappa del Villaggio della Salute e la presentazione della nuova associazione. Vediamo. L'associazione cambia il nome ma non le finalità. In occasione della presentazione della due giorni di prevenzione a Mercoliano con il Villaggio della Salute e la prevenzione del tumore al seno, previsto per il 21 e il 22 ottobre, il dottore Sabatino D'Archi, neopresidente della neonata associazione, ha sottolineato l'importanza della prevenzione. In queste due giornate saranno dedicate non soltanto alla prevenzione con due unità mobili sulle quali verranno eseguite mammografie ed ecografie, prevediamo oltre 200 prestazioni gratuite a quelle fasce di popolazione che non rientrano nello screening nazionale. Quindi in particolare faremo mammografie a donne tra i 40 e i 50 anni e ecografie mammarie nelle donne under 40. In più faremo delle prestazioni in termini di prevenzione primaria, quindi parteciperà il CONI, faremo tante attività sportive, daremo un po' di informazioni circa gli stili di vita, come ridurre quelli che sono i fattori di rischio per lo sviluppo del tumore mammario. La prevenzione del tumore al seno si arricchisce di collaborazioni importanti, come quella della clinica Montevergine. Collaborare anche con il dottore, con il dottore D'Archi e con l'associazione Hermes per noi è fondamentale. Infatti a novembre installeremo anche noi un mammografo, che è una novità per una struttura monospecialistica come la nostra, di alta specialità cardiologica, però vogliamo stare vicino alle donne, vicino al territorio e vicino all'associazione Hermes. Mercogliano è tra le quattro città campane, scelta dalla Susan Coman in Italia per ospitare la carovana della prevenzione, unica tappa della provincia di Avellino. A Salerno tornano le giornate della scuola medica salernitana. L'appuntamento in programma il 20 e il 21 ottobre, prevede anche un convegno internazionale. Sentiamo. Sarà l'insegna della tradizione e dell'innovazione, la ventiduesima edizione delle giornate della scuola medica salernitana. L'evento organizzato dall'Ordine dei Medici di Salerno, che quest'anno si terrà il 20 e il 21 ottobre. Dopo la parentesi del Covid, venerdì tornerà nell'aula magna dell'Università di Fisciano il giuramento di Ippocrate, un momento dedicato ai neolaureati, che sarà seguito dalla consegna dei premi scuola medica, con il conferimento dei riconoscimenti alla storia, alla carriera, al medico dell'anno. Alla ricerca e al giornalismo, sabato 21 ottobre, invece al Teatro Ghirelli, si terrà un convegno scientifico internazionale sull'intelligenza artificiale. Certamente oggi, dalla situazione embrionale, così diciamo un termine medico, passiamo a una situazione reale, cioè quella dell'applicazione di questa tecnologia nelle nostre attività. I benefici fondamentalmente possono derivare dalla possibilità di un'analisi rapida e su campioni di grossi volumi. Un tema strettamente attuale, ma che anche in ambito medico, sembra viaggiare a due velocità. Noi dovevamo avere la cartella elettronica, che era un primo esempio di applicazione dell'intelligenza artificiale. Eppure la cartella elettronica in alcune zone d'Italia è già presente, in altre zone sta per nascere. Il Governo nazionale ripartisca i fondi in base alle estensioni territoriali e non solo per il numero degli abitanti. Questo l'appello lanciato questa mattina dal Sindaco Mastella. Da Benevento il Sindaco Clemente Mastella annuncia la richiesta che avanzerà all'Assemblea nazionale del Lanci per cercare di far arrivare più fondi non solo alla città, ma all'intera provincia, dal Governo nazionale. Attualmente per determinati contributi i ministeri erogano i fondi in base al numero di abitanti e non per l'estensione territoriale. Di qui l'appello del primo cittadino di Benevento a margine di un incontro con i residenti dell'area nord della città per l'inaugurazione di una strada e dei numeri civici. Benevento ad esempio, pochi sa, noi abbiamo 130 km quadrati, Napoli a 119, però io ricevo per quanto riguarda i fondi Benevento che sono 3 milioni, quelli c'erano 300 milioni. Allora invece andiamo a fare un rapporto equilibrato tra quello che è il dato e gli abitanti. Dovendo a Napoli non c'erano gli abitanti, abbiamo appena 60 mila, però va ritrovato anche un equilibrio con la forma di presenza di chilometri quadrati perché altrimenti non è che ce la faccio ad arrivare dappertutto. Una trattativa del Governo spero di far, come è venuto altre volte, di far votare all'unità da parte del Lanci. Ed ancora serve capire anche chi dovrà manutenere le strutture costruite anche grazie al PNRR. C'è la prima, noi facciamo le opere, ma chi le manutiene dopo? E quindi è un problema, noi siamo con la Casa di Jones, sto immaginando a chi affidare in gestione, se all'ASR, se ai privati, è un problema. Avvicinare i giovani alla cultura e quindi alla lettura, è questa la finalità del progetto dell'Associazione Nuova Dimensione. C'era una volta in un paese lontano la voglia e l'idea di diffondere la cultura. L'Associazione Nuova Dimensione ha lanciato il progetto per il contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica con l'avvicinamento al libro e alla lettura. La sintesi di quello che abbiamo trascorso con Angelina Aldorasi nelle istituzioni educative, qual era la funzione dell'istitutore, del rettore, era quella di far crescere questi ragazzi e di dargli una visione della società e del mondo che potesse soddisfare non le proprie esigenze corporali, ma le proprie esigenze morali. Un'occasione di crescita per i ragazzi per stimolare la loro curiosità e il sapere. Purtroppo oggi si legge molto poco e io durante la mia esperienza posso dire che l'alunno che non legge bene non è che va male soltanto nelle materie letterarie, ma va male in tutte le discipline. Saper leggere vuol dire stare bene con se stesso, amare libri significa stare bene con se stesso. Il progetto è stato presentato all'Abbazia dell'Oreto di Mercogliano, una nuova iniziativa dell'Associazione Nuova Dimensione. Un ennesimo progetto che portiamo avanti nonostante le tante altre attività che facciamo già con l'Associazione Attraverso i ragazzi del servizio civile è lavorare con le scuole, è uno di quegli obiettivi principali, quelli di riportare al vecchio splendore la lettura di un libro e soprattutto quello di riportare alle vecchie memorie, quello è il principale obiettivo che noi stiamo cercando di realizzare attraverso il centenario dalla nascita di Italo Calvino e soprattutto attraverso l'azione nelle scuole e nelle biblioteche comunali che sono parte dei nostri progetti. Il Tg termina qui, grazie per la vostra attenzione. Grazie per la visione! Grazie per la visione!